Castiglione Olona, in provincia di Varese, forse pochi lo sanno, è la prima città ideale dell'umanesimo. In mezzo alle vie di comunicazione tra Alpi e Pianura Padana controllava fisicamente il territorio e il casato dei Castiglioni era il centro di giochi di alleanze politiche, decidendo di allearsi ora con i Torriani, ora con i Visconti. Le sue origini romane e longobarde vengono stravolte fra il 1422 e il 1440 da un personaggio particolare, diciamo pure una gloria locale, il cardinal Branda Castiglioni, che praticamente a casa sua decide di mettere in pratica gli ideali rinascimentali progettando e realizzando la sua città ideale, facendone, come la definì d'annunzio, un'isola di Toscana e Lombardia. Per parlare quindi di Castiglione Olona bisogna necessariamente conoscere la vita del suo trasformatore, il cardinal Branda Castiglione, di cui si sa moltissimo ma da pochissimo. Solo intorno al 1930, infatti, decisero di fare importanti restauri che andarono addirittura ad ispezionare il sarcofago del cardinale, tuttora nella chiesa della collegiata. La salma del personaggio di cui si era solo sentito tanto parlare c'era davvero, capelli rossastri e paramenti sacerdotali, ma soprattutto c'era una pergamena in tre fogli, scritti a mano in latino, firmati Johannes de Hollomons, insegnante di scuola che per 18 anni era stato il segretario del Branda, che in questo scritto ci regala una biografia accuratissima. Primo genito di una famiglia nobile milanese, diventa religioso, studioso, diplomatico e mecenate. Docente di diritto civile e canonico all'Università degli Studi di Pavia, verso la fine del 1300 trascorrerà la sua vita ampliando decisamente i confini dei suoi luoghi d'origine. Del resto, che non fosse un personaggio secondario, lo si capisce anche dalla sua carriera consolidata grazie a Gian Galeazzo Visconti, che nel 1389 lo manda Roma alla corte pontificia per rendere ancora più importante l'Università di Pavia, ottenendo privilegi vari all'epoca dedicati solo alle Università di Bologna e Parigi, per arrivare poi come nunzio apostolico a Colonia e nelle Fiandre, ma anche in Ungheria, dove divenne conte di Vesprem e Transilvania all'inizio del 1400. Nominato cardinale di Santa Romana Chiesa nel 1411 dall'antipapa Giovanni XXIII, ricordiamoci che era un periodo piuttosto complicato, in quel momento c'erano addirittura tre papi in contemporanea. Decise di tenersi come stemma personale quello della sua casata, ancora ben visibile qua e là, nel feudo di proprietà della famiglia Castiglione Olona, un leone rampante che tiene in mano un castello. E fu proprio qui che ormai anziano, a 72 anni, decise di ritirarsi, non certo per stare con le mani in mano, ma per creare la sua città ideale, un sogno per gli urbanisti rinascimentali, diventando egli stesso una sorta di Lorenzo il Magnifico del Nord. Insomma, dopo essere stato protagonista dei concili di Costanza, Basilea, Ferrara-Fierenze, dopo aver operato nella diplomazia anche per superare lo scisma d'Occidente e aver fondato università in Ungheria, Francia e Inghilterra, a Castiglione Olona non poteva essere da meno. Qui, infatti, fonda una scuola per un'ottantina di ragazzi del Borgo e del Contado del Seprio, selezionando poi i migliori per fargli proseguire gli studi all'Università di Pavia. E qui inizia a chiamare grandi nomi del momento per fare di Castiglione Olona un avamposto dell'umanesimo in Lombardia, il senese Lorenzo Di Pietro detto il Becchietta, il fiorentino Paolo Badaloni detto Schiavo e Masolino da Panicale, maestro e collaboratore del Masaccio. I risultati si vedono già fin dalla piccola chiesa del Santissimo Corpo di Cristo, nota anche come chiesa di villa, sulla piazza principale del Borgo. Il modello architettonico è chiaramente derivato da quello del Brunelleschi e infatti probabilmente è il primo edificio costruito oltre confini toscani, ma con queste precise scelte stilistiche, proporzioni e bicromia, ma anche caratteristiche strutturali come la spina di pesce nella cupola. Ma il Branda, abituato a lussi e corti importanti, non fa mica la vita da curato di campagna e nel suo regno restaura l'antica residenza di famiglia, quello che sarà il suo palazzo. Luogo di delizie, lo sappiamo per certo, grazie al racconto di Ioannes, maestro della scuola del Borgo, dove terrà banchetti e dibattiti culturali, aglietando gli invitati con ogni prelibatezza. Del resto il Branda era ricco sì, ma anche generoso, ecco come ne parlava il suo biografo ufficiale. Tutti i vasi e utensili suoi, specialmente quelli per la mensa, erano d'argento e d'oro. La dispensa era degna di un re e il modo di pranzare splendido e signorile, e ancora, dava le emosi nei poveri, forniva doti alle ragazze indigenti, largheggiava con i parenti. Il palazzo è composto da due corpi di edificio ben distinti, uniti al primo piano, dalla loggetta con decorazione del vecchietta e una strana decorazione a natura morta di Paolo Schiavo. Il soffitto in legno è decorato con tavolette di pinta tempera, con i blasoni del casato Castiglioni e altre famiglie nobili. E al piano terra da una piccola cappella cardinalizia, dedicata a San Martino, scoperto solo nel 1982. Nella volta a Cruciera vediamo i quattro evangelisti con i loro simboli, mentre nell'arco si riconosce Dio Padre contornato da schiere di angeli, anche questa affrescata dal senese vecchietta. Alle pareti, fra papi e cardinali in trionfo, una crocifissione e una strage degli innocenti, troviamo anche una processione di donne, vergini e martiri, guidate da Sant'Ursola in cammino verso Gesù Cristo. Nella camera del cardinale, affrescata da un maestro di scuola lombarda, possiamo dividere le pareti in quattro fasce ben distinte. In cima gli stemmi del casato, appena sotto un giardino con alberi di frutta, fiori e erbe aromatiche medicinali, con puttini che giocano modernissimi, sembrano quasi dei fumetti, il tutto su fondo rosso quasi pompeiano. Appena sotto c'è un arazzo continuo, con cartigli e moti latini di autori classici, particolarmente amati dal cardinal Branda, Cicerone, Seneca, il tutto scritto con un carattere di scrittura decisamente complicato, il gotico corale. La parte più bassa, invece, quella vicino al pavimento, è una panchina e attenzione, qui ancora senza gli effetti della prospettiva, che avrebbe potuto renderla ancora più scenografica. Del resto, le regole della prospettiva sono appena state codificate e non tutti gli artisti le conoscono. Nello studiolo del cardinale troviamo un mobile in legno di noce, che ha una sorta di coro, con una seduta più grande al centro e panchette laterali, ma la vera chicca di questo luogo è la parete. Un immenso affresco conosciuto come paesaggio ungherese di Vetsprem. Ricordate dove il Branda aveva soggiornato a lungo, insomma, in tarda età si era portato dietro parecchi dei suoi ricordi. Questo affresco è di Masolino da Panicale e del Vecchietta, che qui hanno lavorato insieme nel 1435, creando un'opera unica al mondo. Per la prima volta c'è solo un paesaggio, senza personaggi, scelta che in questo periodo non era ancora nemmeno stata immaginata altrove. Ah, in cima dell'angolino c'è un ritratto di fanciula di fianco a un'altra figura, troppo rovinata per essere riconoscibile, e anche qui c'è la mano di Masolino. Cosa sta facendo questa ragazza? Ma, secondo me è sbircia. Abbiamo già detto che Castiglione Olona era un punto fortificato, una rocca presente fin dall'undicesimo secolo, addirittura collegato con l'antico castrum di Castelseprio e con le fortificazioni di Torba, dove la torre fortificata è diventata parte del monastero delle monache benedettine, protetto anche dalla cinta di mura romane. Ecco quindi che nel punto più alto del borgo, con la miglior visibilità sulla campagna circostante, vicino a dove scorre il fiume, l'Olona, c'era un castello distrutto più volte fra Medioevo e Rinascimento. Fra il 1422 e il 1425 i fratelli Solari, architetti e scultori di Carona nel canton Ticino, fondano la collegiata, una chiesa in stile gotico lombardo, con la classica facciata capanna rivestita in sotto e abbellita dal fregio in archetti che scorre tutto sotto la gronda. Nella lunetta in pietra denaria, sopra il portone principale, riconosciamo la Vergine con il bambino, i Santi Stefano e Lorenzo con gli strumenti del loro martirio. Il primo, lapidato, ha una pietra sulla spalla, l'altro, arso vivo, ha sul piede una graticola. Sant'Ambrogio si riconosce invece per quel frustino in mano, era conosciuto come il fustigatore diaretici, e il cardinale Branda in ginocchio sulla sinistra. Nel fregio alla base riconosciamo i simboli dei quattro evangelisti. All'interno è il trionfo della pittura rinascimentale toscana. Masorino da Panicale, assieme al senese vecchietta e al fiorentino Paolo Schiavo, affrescano le vele della volta dell'abside con sei scene dedicate alla vita della Vergine, dalla Natività all'Annunciazione, passando per l'incoronazione di Maria, fino allo sposalizio, poi l'adorazione dei magi, finendo poi con l'assunzione. In origine il resto della chiesa era stato lasciato proprio bianco, così che dall'entrata, allo sguardo dei fedeli, potesse finire direttamente là, in fondo alla navata, senza ulteriori distrazioni. Le decorazioni attualmente presenti nel resto della chiesa sono infatti successive ottocentesche. Colori vivaci e luminosi. Le figure sono ancora allungate, così come lo spazio è ancora gotico e poco proporzionato, soprattutto nelle tre vele centrali, dove l'artista escogita anche sistemi fantasiosi per incastrare fisicamente le architetture in quello spazio, così caratterizzato e appuntito. Nei due altari laterali troviamo due trittici in pietra, che sembrano curiosamente realizzati in legno decorato, come effettivamente si usava all'epoca, ma non a Castiglione evidentemente. E siccome qui tutto è decisamente particolare, uno sguardo lo merita anche il candeliere centrale in metallo, di manifattura tedesca o fiamminga del 1400, composto da piccole parti che formano altrettante scene di caccia al cervo, uguali in ogni braccio. Talmente bello ad aver indotto il primo restauratore a farne una copia, tenendosi poi l'originale. Ah, fu scoperto e ora la copia è appesa nella chiesa di Villa. Nel porticato di accesso al battistero troviamo una sinopia dell'Annunciazione, il cui affresco staccato si trova ora nella stanza sulla sinistra. La sinopia è in pratica il disegno preparatorio in terra rossa, in origine proveniente da sinope sul Mar Nero, ecco il perché del nome. Il disegno verrà poi coperto via via con lo strato d'intonaco e colore, ma una volta staccato l'affresco, per restaurarlo o anche solo per proteggerlo dall'intemperia, è anche curioso vedere le due versioni a confronto, l'idea iniziale e il risultato finale. Ho tenuto per ultimo il battistero, proprio per chiudere in bellezza. In quella che fu la torre d'angolo del vecchio castello Castiglioni viene creato un piccolo battistero con uno dei cicli di affreschi rinascimentali più incredibili e meglio conservati di tutta la Lombardia, le storie del battista di Masolino da Panicale del 1435. Qui il pittore si lancia in arditi scorci prospettici e in geniali trovate per rendere la storia ancora più credibile e tridimensionale. Se stupisce noi oggi figuriamoci l'effetto che può aver fatto agli occhi di un fedele dell'epoca. Le vele dell'abside avevano limitato la resa prospettica delle scene, qui invece lo spazio è piano e regolare, tutto a disposizione dell'artista che ne fa decisamente buon uso. Masolino lavora qui alla fine della sua carriera, nel frattempo quindi è già venuto a contatto con il giovane Masaccio, che con i suoi volumi realistici e moderni evidentemente ispira il vecchio maestro, immenso nello stile gotico, che conclude però la sua carriera con una visione decisamente rinascimentale dello spazio. Le acque del fiume Giordano, le acque del battesimo, confluivano visivamente proprio nel punto in cui c'era la fonte battesimale, creando così un collegamento diretto fra sacre scritture, realtà e realissimi sono quei nudi sulla destra, qui il gotico è decisamente superato, siamo nel rinascimento. La prospettiva brunelleschiana viene resa ancora più realistica dall'uso di lamina d'oro per aureole e armature, è svanita nei secoli quindi le parti nere bisogna immaginarle all'opposto, brillantissime. Nella parte del banchetto di Erode i personaggi al tavolo sono riconoscibili e vediamo ad esempio lo stesso cardinale Branda che però si indigna e pesta al pugno per far capire di non essere d'accordo con la decisione che porterà sulla destra alla decapitazione del santo, la cui testa fa bella mostra sul grembo di Salomè, elegantissima come solo una principessa gotica poteva essere. Avete notato i due personaggi quasi centrali vestiti in modo elegante e contemporaneo, cioè quattrocentesco? Sono un po' la cifra stilistica di Masolino che aveva adottato questo sistema per attualizzare le scene sacre e in pratica servono anche a collegare due momenti distinti della narrazione, proprio come aveva già fatto con successo a Firenze qualche anno prima, insomma il sistema che funziona non si cambia. La parte dedicata alla prigionia di San Giovanni sfrutta con effetto tridimensionale anche la profondità del muro e usa la luce naturale, quella della finestra che è vera, come se fosse la luce presente nella prigione del santo e girato l'angolo si vede la scena del martirio. Un racconto per immagini, utilissimo in un periodo in cui le pareti erano per definizione la Bibbia per gli analfabeti. Un racconto tragico che mischia spazi reali e spazi sacri, luci terrene e luci mistiche e che si conclude con la visione là in alto, in mezzo al verde, della sepoltura del santo in un sarcofago che, non casualmente, è esattamente uguale all'altare della chiesa. Linee classiche, essenziali, in marmo dei colori alternati. Masolino, fra i maggiori artisti del gotico, anche qui ci ricorda che non si finisce mai di imparare e non bisogna mai smettere di reinventarsi, cercando costantemente di migliorare, un po' come fece il cardinal Branda Castiglioni, partito dal borgo, verso incarichi e mondi lontani e tornato qui per rendere questo spicchio di Lombardia un piccolo doiello inaspettato, la sua città ideale dove morire alla rispettabile età di 93 anni, anziano sì, ma con lo sguardo sempre puntato verso il futuro.